Babason terzo è pronto l'aspirante vampiro? Certamente Gunther von Wannesteiger, l'aspirante vampiro è qui. Tu chi sei? Sono Peppa aspirante vampiro primo. Benissimo, come saprai noi siamo vampiri da tante generazioni. Mio padre era vampiro, anche mio padre era vampiro. Mio padre invece era operaio. Allora tuo padre non succhiava il sangue? No, mio padre gittava il sangue. Noi siamo vampiri, ma in certe occasioni succhiamo anche il sangue di prede animali. Ma che schifo! Ma come che schifo? Che succhiamo il sangue delle capre, delle pecore, degli agnelli. Beh allora io non sono abituato. Ma come mai? Mio padre lavorava in Fiat, erano gli agnelli che succhiavano il sangue a noi. Tuono! 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 Basta! Ma lui non sarà mai un vampiro completo e allora quando l'ombra sarà calata verso la monta della morte di colui che sarà... Ma che tiene una che non si è capito niente? Che dirà fa? Babason! Ha detto che dovrai morire e morirai con un paletto di frassino infilato nel cuore! Ma Michele a culon che mi ha fatto tra me e coscia! Babason prendi il paletto! Aspetta Babason subito corre a piglio paletto, ma che tira per cento all'angoppe paletto? Aspetta Babason boom! Ma come ti permetti? Lo vedi? E' per questo che non sarò mai... Basta con quest'astio! Se Mister Risparmio ci sta, usando un uletta! Wow! Mister Risparmio